Musica Barricate la stanza Dobbiamo proteggere quanto ha individuato il contenitore di biorischio Porta sicura Piazzo il tappeto Rinforzi al muro quasi completati Siamo pronti ad accogliere Rinforza il muro ADS attivo in posizione Rimangono 10 secondi Posiziono il tappeto trappola Marcano 5 secondi Siamo pronti ad accogliere quanto ha individuato il contenitore di biorischio Le grenade ormai non sono più un problema Video operativo Siamo pronti ad accogliere quanto ha individuato il contenitore di biori Siamo pronti ad accogliere quanto ha individuato il contenitore di biori Siamo pronti ad accogliere quanto ha individuato il contenitore di biori Proteggete il contenitore di biorischio Un operatore alleato rimasto Il nemico sta prendendo il contenitore Missione fallita Difensori uccisi Il nemico sta prendendo il contenitore di biori